Prende il via a Varese un corso per guide turistiche in mountain bike. Nato grazie alla collaborazione tra Camera di Commercio e Accademia Nazionale Mountain Bike, il corso è finanziabile al 50% per i residenti in provincia. Nei fatti il corso si terrà dal 17 al 20 marzo. Saranno quattro giornate intense, suddivise tra uscite sul territorio e lezioni in aula. Obiettivo? Proporre delle esperienze uniche e in sicurezza alla scoperta del territorio con l'arte e la cultura che lo circondano. Il corso si inserisce perfettamente nel più ampio progetto di Camera di Commercio Do You Bike, che vuole fare della nostra la prima provincia italiana interamente dedicata al cicloturismo. E proprio per favorire la messa a disposizione di una rete di guide qualificate a supporto dell'iniziativa, Camera di Commercio ha stanziato risorse per garantire il finanziamento del 50% del costo a quei partecipanti residenti in provincia che supereranno l'esame finale fino a un massimo di 30 persone. Passiamo dalle parole ai fatti, presentiamo un'iniziativa di rilevanza direi nazionale perché l'Accademia di Formazione per le Guide cicloturistiche farà il primo corso di formazione in provincia di Varese. Questo è un tassello importantissimo per il nostro territorio perché certifica che l'iniziativa Do You Bike, tesa a promuoverlo attraverso le iniziative di conoscenza dei territori con le guide e il cicloturismo, sta funzionando. Arrivano sempre più persone sul territorio e c'è sempre più necessità di guide specializzate. Ma non finisce qui. Il presidente di Camera di Commercio Fabio Lunghi ha siglato anche un'intesa con la comunità montana del Pianbello, tra i primi partner istituzionali ad avere aderito al progetto Do You Bike per lo sviluppo di un sistema cicloturistico e di mobilità sostenibile con il coinvolgimento di imprese della filiera, associazioni di categoria e denti locali. Oggi partiamo con questo accordo che ufficializza la partenza del progetto tra Camera di Commercio e comunità montana del Pianbello che riguarda l'infrastrutturazione cicloturistica della provincia di Varese. Partiamo con un progetto che mette assieme sia le piste ciclabili di Fondovalle che le piste di mountain bike e che quindi va a dare copertura totale al territorio creando un'occasione veramente importante di rilancio turistico e rilancio anche ambientale.